Pietro Ubaldi Chi ha visto verità più elevate, cioè il meccanismo secondo cui quelle porte funzionano, con una leggera e abile mossa di dita, gira la chiave e entra. Così l'uomo, tanto ingiustamente abido di domare e dirigere per diventare padrone di tutto, invece che cominciare a saper comandare a se stesso, come la legge impone, cerca di comandare sugli altri, eccitandone la resistenza e la rivolta. Egli segue così l'unica via per non diventare padrone di niente. Ma purtroppo di questo povero dominio, contrastato, malsicuro e sempre pronto a crollare, si sono dovuti contentare tutti gli imperatori del mondo. Perché a chi ignora e viola la legge, di meno peggio non può essere concesso. Gli imperi duraturi non possono essere che quelli dello spirito.